Andrea Segre è docente di Economia Circolare e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile all'Università di Bologna, noto per le ricerche e i progetti pionieristici sullo spreco alimentare. Ha fondato, se ho capito bene, il progetto Spreco Zero. E ci ha parlato anche di un'app che ha progettato insieme agli studenti, lo Sprecometro, tutto molto interessante. Ma noi siamo qui oggi per presentare il suo primo romanzo. Un romanzo, o come dice lui un thriller, che è molte cose. In realtà, si potrebbe dire che è un libro sulle tradizioni alimentari dell'area mediterranea. Si potrebbe dire che è un libro anche su ciò che dieta mediterranea non è. È un libro sulla ricerca scientifica. O almeno i protagonisti del libro sono ricercatori scientifici. Insomma, Andrea, che cosa è questo libro che ho tra le mani? Perché l'hai scritto? Perché un ricercatore si mette a scrivere romanzi? Ecco, bella domanda. Me lo chiedono tutti. Com'è che ti è venuto in mente di scrivere un romanzo? E poi addirittura c'è scritto Food Thriller. E se uno va su internet e dice che genere è Food Thriller? Non esiste. Sembrerebbe che l'abbia inventato io. Intanto grazie all'Antoniano e al festival di questo invito. Questo è un bellissimo luogo. Al di là che siamo adesso nel sotto. Ma merita davvero esserci. Sono davvero felice di esserci perché condivido perfettamente questa contaminazione in modo che i poveri alimentari... Da quando ho iniziato io in qualche modo a occuparmi era l'altro secolo. Ero molto più giovane. E 98-99, ecco, diciamo, se si può dire da allora è molto peggiorata la situazione. E quindi credo che sia importante, diciamo, affrontare questo tema che poi è il mio tema di ricerca, ma più che ricerca è di applicazione. Allora, siccome io ormai ho una terza età, ho una certa età, e all'università si è valutati anche, si chiama terza missione, che non è necessariamente terza età, ma è quando tu fai una ricerca e cerchi di trasmetterla, di divulgarla, andando oltre, diciamo, le pubblicazioni scientifiche, che sono importanti, che sono valutate, ma che poi non legge nessuno. Certe volte magari neanche i commissari ai concorsi, al di là che io i concorsi universitari li ho finiti da tanti e tanti anni. e ho cercato, diciamo, un modo diverso, se vogliamo, per raccontare, per confrontarmi sui temi che io tratto, però ho fatto proprio una scelta a monte. Il saggio. Chi lo legge, il saggio scientifico, il risultato di una ricerca, è qualcosa di diverso rispetto a una pubblicazione che vai su una rivista che ha l'impact factor, che si scrive in inglese, che ha una certa circolazione. Ecco, allora ho cercato veramente un po' sulla carta, io sono un'età per cui la carta, insomma, io sono un lettore di libri molto onnivoro, diciamo, e ho cercato di avere, e mi piace scrivere anche, un genere che fosse letto, cercando di trattare un tema, chiaramente, in un modo diverso. Tanto che l'editore, quando, e l'ho scelto con cura, io ho pubblicato i miei saggi con gli editori, non so, con Inaudi, Mondadori, Sellerio, insomma, Rizzoli, quelli più, fra virgolette, importanti a livello nazionale. Ho cercato con cura un editore, diciamo, che consentisse di essere seguito un poco più da vicino. E quando lui ha letto il manoscritto, mi ha detto, scusa, ma non è una pubblicazione scientifica che tu sveli il colpevole alla terza pagina? Nella ricerca tu dici subito qual è il risultato, poi lo dimostri. Ha detto, giallo, non si fa così, devi arrivare fino alla fine. Quindi è stato, diciamo, un bel esercizio, anche dal mio punto di vista, nella speranza che potesse questo testo scritto raggiungere più lettori. E vi devo dire, sempre parliamo di piccoli numeri, quindi non di numeri esagerati, però rispetto al saggio ha, fra virgolette, venduto. Io non sono un scultore di professione, quindi il numero di vendite è in funzione del messaggio, diciamo, che si trasmette, che passa. E molto, molto più rilevante. E quindi devo dire che dal punto di vista, diciamo, della pubblicazione, e quindi della diffusione, ha dei numeri molto più grandi. Vuol dire che ci sono più lettori. Non avevo dubbi, però adesso lo sto misurando. E poi, chiudo con questa risposta, ho anche pensato, va bene, ma di cosa stiamo parlando? Tutti i gialli thriller che ho letto, di solito il protagonista è un commissario, un magistrato, un avvocato, o anche declinati ovviamente dal genere femminile. E no, lì ho detto, questa è una bella occasione per entrare nel mio mondo, che io vivo, quindi il protagonista è un giovane ricercatore. Anzi, è uno studente, perché sta facendo il dottorato di ricerca. E lui, come tutti i ragazzi un po' entusiasti, è molto lesso lui, diciamo che non è proprio sveglissimo subito. Però, insomma, si farà. Però, come tutti i ragazzi che iniziano questo percorso, il terzo livello, diciamo, dopo la laurea magistrale, lui vuole andare sul campo. Quindi, cerca un tema, sul campo vuol dire andare all'estero, vuole andare a fare qualcosa in un altro paese. E questo mi ha consentito veramente di entrare nel mio mondo, anche un po' di criticarlo dall'interno, rispetto ai giovani, alla carriera universitaria. e l'ho scritto, insomma, svelando anche qualcosa che magari non si sa, come si fa la carriera, come si viene valutati, così, nei dialoghi che vengono fuori. Poi, a un certo punto, ho riletto il testo e ho pensato di metterlo nella quarta, perché mi ha colpito anche me. A un certo punto, in un dialogo, siamo verso la fine, c'è un agente... Adesso io vi direi già tutto, però l'editore mi ha detto, però racconti tutto, è inutile che vai a fare le presentazioni. Adesso non c'è, quindi mi allargo un pochino. Insomma, c'è un agente, però non è un agente di polizia, che in qualche modo lo salva, è un altro agente. E a un certo punto, sto ragazzo, che insomma, ha entrato in un giro non proprio bellissimo, sempre di ricercatori, ci sono anche quelli cattivi, anzi cattivoni, e a un certo punto, questo ragazzo gli chiede a questo agente, e gli dice, perché non capisce bene, ma lei è un ricercatore o un investigatore? E l'altro lo guarda un po' sorgnone e gli dice, perché? Che differenza c'è? Ecco, alla fine ho trovato anche il mio investigatore, perché in fondo anche noi, anche quando siamo alle prime armi, in realtà investighiamo qualcosa e cerchiamo delle soluzioni, magari non dei colpevoli, ma qualcosa che migliori la nostra vita. Tanto devo forse scusarmi, perché ovviamente con il mio amore per la formalità, credo di essere subito scivolato nel tu, ma insomma, abbi pazienza tra... Prima procedente, il tu adesso... Roba da Francescanie. Adesso questa è la vera fiction. Ecco. E allora, riprendo un attimo il libro. Prima del prologo trovo questa frasetta. In questo scritto le persone sono di fantasia, i fatti verosimili, i luoghi reali, i dati verificati, le teorie possibili. Quanto narrato potrebbe davvero succedere? Forse è veramente successo. E allora, trattandosi di un thriller, tenendo presente che c'è qualcuno che è stato salvato, e quindi poteva anche finire un po' peggio la storia, la domanda che mi viene è questo. Ma davvero ci sono potenti, multinazionali, così interessate a quello che noi mettiamo nel nostro piatto? Sì, molto. In realtà, dopo averlo scritto, mi hanno fatto un'intervista, penso fosse libero, un giornale, diciamo che, nella pagina culturale, ha un grande spazio, e quindi la giornalista mi ha fatto tante domande, ero anche sorpreso dall'approfondimento che si poteva fare, perché di solito sono, diciamo, spazi molto ridotti, e mi ha chiesto una cosa che mi ha sorpreso, che però nel libro c'è, seppure non è citata direttamente. Ma lei ha investito nelle multinazionali del farmaco? Io ho detto, noi universitari, adesso sugli investimenti, a meno noi ad Agraria, insomma, non è che siamo proprio sveglissimi subito, io diciamo multinazionali del farmaco, perché? Ma lei ha letto che c'è la pillola contro il saggio, insomma, no, il Trill, scusate, vedete anche io stesso, il Trill si chiama, il titolo è Globesity, io avevo proposto un altro titolo che poi c'è nel testo, quindi porta, diciamo, a una delle questioni, forse la più rilevanti a livello agroalimentare, a livello globale, cioè tutti noi, anche qualche giorno fa, vi ricordate, forse l'avete letto, la giornata mondiale dell'alimentazione, la FAO ci propone sempre il dato dei poveri alimentari, di chi ha fame, adesso sono quasi 900 milioni, stanno peraltro crescendo, però guardando bene i dati, diciamo, della fame, se uno prende altre statistiche, vede che in realtà i sovrappeso, gli obesi, ci sono quindi malnutriti per difetto, sarebbero gli affamati, e malnutriti per eccesso, sovrappeso e obesi, sono più del doppio, quindi è da lì che si parte, fra l'altro. E adesso, negli Stati Uniti, visto che l'obesità è una, diciamo, pandemia globale, l'OMS l'ha riconosciuta come una malattia che ha diversi origini, io qui la tratto, è descritto all'inizio, con, come posso dire, il giovane ricercatore, con i guanti della festa, cioè parliamo solo del cibo, ha diversi origini, quindi insomma, ho circoscritto molto il tema, però è uscita una pillolina, che forse l'avete letto sui giornali, che serve per dimagrire, sostanzialmente, studiata dalle case farmaceutiche per combattere il diabete, che è un problema globale, viene utilizzata, peraltro con delle controindicazioni, con un costo elevatissimo, da chi vuole dimagrire, e voi sapete che negli Stati Uniti ci sono dei grandi obesi, molto più che in Europa e in Italia, e lì poi c'è una fascia della popolazione molto ricca che può permettersela, e le azioni di queste due, adesso saranno tre, una americana e una norvegese, società che la producono, sono un principio attivo, e due nomi, diciamo, diverse, hanno avuto dei risultati economici strabilianti, e quindi questa giornalista mi ha chiesto, io non ho mai fatto questa associazione che si potesse investire, per dire la verità, ma il farmaco lo conoscevo, e mi ha molto impressionato anche il costo, diciamo, in assenza di una diffusione e quindi di una domanda molto grande, circa l'equivalente, adesso diciamolo in dollari, mille, almeno la cifra che ho, l'ultima che ho reperito, 1200 dollari al mese, la devi prendere sempre, perché come smesti ti torna la fame, e tutto. Mi sembrava una cosa, guardando poi i dati, nel testo ci sono, veramente, come dire, paradossale, cioè a quel punto qual è il messaggio? Mangi, mangia liberamente, ingozzati pure, mangia le peggio cose, le più schifezze, tanto poi c'è il pillolino, solo che questo pillolino, al di là delle controindicazioni, che pare siano tante, non sono un medico, quindi non mi addentro troppo, in realtà è come dire, è il rimedio che si possono permettere alcuni, soltanto alcuni, e a monte, sembra un combinato disposto, c'è qualcuno che produce il cibo e spazzatura che è esattamente quello che ti porta poi a quel risultato, quindi non è un discorso contro le multinazionali, però sembra ci essere, sembra che ci sia veramente un bel connubio, c'è qualcuno che ti produce il cibo che ti fa ingrassare, diciamo rapidamente, e poi senza pensare alle diete, agli stili di vita, all'educazione alimentare, eccetera, c'è già il rimedio pronto, cosa ti interessa, basta che tu te lo possa permettere. Allora a me la cosa ha molto colpito, un po' per lo squilibrio, un po' per il messaggio che ne esce, ma soprattutto perché guardando, diciamo, i nostri dati, adesso lo dico, dopo l'uscita di questo non scriverò mai più un saggio, ho detto, basta, vado solo, infatti sto scrivendo la seconda puntata, in realtà un saggio è appena uscito, lo presenteremo fra pochi giorni al Mast con il cardinale Zuppi, ha fatto lui la prefazione, si chiama la spesa nel carrello degli altri, l'Italia, l'impoverimento alimentare, perché viene fuori qualcosa di molto controintuitivo che sono proprio i poveri, quelli che mangiano peggio, quelli che ingrassano di più e che sprecano di più, poi questo tema insomma un po' si rincorre nel libro, è controintuitivo, non ti viene da dire che è così, Dice, come uno è povero, ha meno risorse economiche, mangerà di meno perché non riesce a fare la spesa, in realtà ha un doppio spreco, uno di qualità e uno di quantità perché acquista prodotti di valore nutrizionale molto più basso, talvolta li getta via perché sono già rifiuti alimentari, altre volte vengono diciamo mangiati e hanno un impatto sulla salute, e sulla salute infatti se andate a vedere i dati chi sono i più diciamo le categorie socio-economiche più in sovrappeso tendenti all'obesità i più poveri, film già visto negli Stati Uniti e qui non è che scopriamo niente di nuovo. Ecco, allora diciamo la riflessione non è contro le multinazionali, i poteri forti, l'uomo ragno per dire, è semplicemente c'è qualcosa di oggettivo che vedi nei dati e la sorpresa e per questo poi ho deciso di pubblicare il saggio forse sarà l'ultimo perché in realtà questa diciamo ne parlavamo prima di iniziare questo diciamo questo mangiare male avere un impatto negativo sulla salute non riguarda soltanto i poveri ma nella nostra indagine abbiamo visto e l'abbiamo definito impoverimento alimentare non c'è qui dentro vi dico qualcosa diciamo di nuovo perché c'è venuto dopo guardando diciamo i risultati di questa indagine alla fine viene fuori che noi stiamo veramente mangiando male ma non soltanto chi non ha accesso fisico o economico o culturale al cibo ma anche tutti gli altri quindi c'è una tendenza a impoverirsi ad avere un effetto sulla salute e chiudo abbiamo fatto ho presentato questo libro alla società medica sabato scorso con dei medici diciamo un incontro dedicato proprio al legame tra povertà e obesità c'è e hanno fatto un rapidissimo calcolo l'obesità è una patologia se questo farmaco che è stato utilizzato negli Stati Uniti venisse passato non so fosse forse potrei dire dalla mutua dal sistema sanitario nazionale dopo un secondo collassa per il costo che si dovrebbe sostenere quindi ecco occhio che è insomma un punto di attenzione partendo adesso capisco da un food thriller ma insomma però è così magari più serio sembrerebbe più serio dirlo attraverso un saggio che ha un suo circuito e per questo così vengo a quello che ho scritto all'inizio cioè questa cosa io me la sono inventata ma diciamo potrebbe veramente succedere dopo un lungo viaggio partendo da Cipro attraversando un po' buona parte della fascia mediterranea Maghreb incrociando i camion dei migranti poi a un certo punto non diciamo perché ma si fa un gran salto si sale su un aereo e si arriva in America e troviamo i nostri due ricercatori seduti a un fast food erano entrati in un altro di fronte ma c'era dicono troppa puzza di fritto dicono di andare nell'altro ma c'è la stessa puzza quindi non è cambiato molto però a quel punto si siedono e a quel punto di fronte a loro vedono molte persone sole la maggior parte la maggior parte sovrappeso se non obese mangiano hamburger patatine bevono coca cola guardano il cellulare ma dopo tutto quello che hanno visto i profumi dei bazar la vivacità dei suc cioè com'è che questa roba qui dei fast food ci affascina dov'è che ci acchiappa in verità i due non è che si trovano lì stanno scappando insomma c'è una fuga ecco non è che sono affascinati e quindi si rifugiano sostanzialmente lì entrano in un fast food c'è una puzza di fritto atomico e dopodiché scusate chi è stato negli Stati Uniti io ho vissuto là per qualche anno insomma questo odore di fritto me lo sono tirato dietro per un bel po' anch'io ce ne sono due qui ne abbiamo uno di una catena lì due che condividono la stessa entrata uno di livello basso e l'altro di livello bassissimo e vedi anche i clienti diversi e anche puoi capire la differenza rispetto se riesci ad avere un naso adeguato a livello di diciamo di odore di fritto o quanto ti rimane attaccato in realtà è la descrizione di quello che io ho visto che tutti noi vediamo ma incominciamo a vedere anche qui c'è questa solitudine nel mangiare questo non condividere il pasto questa iperbolla alimentare dove vedete io non so se andate anche voi come vado io al ristorante le persone che fotografano il piatto non è bello vedere uno che fotografa il piatto e poi lo spara su qualche social non si capisce bene a che pro basta accendere la tv io adesso in un altro libro qualche anno fa ho contato 70 format televisivi 70 di chef o presunti chef che spadellano in modo competitivo poi il massimo non lo citerò mai Masterchef dove hai vai avanti fra l'altro Masterchef con la Spinute Market che adesso è quello il progetto diciamo lo spin off che è stato un po' il motore di tutto recupera quello che diciamo non viene consumato e lo dà peraltro all'opera Cardinal Ferrari che li vicina agli studi però noi diciamo siamo entrati in un sistema dove il cibo non è più reale è virtuale io diciamo mi sono sempre chiesto cosa ti affascina guardando la tv io una volta ho detto attraverso il tubo catodico e tutti mi hanno guardato dicendo si vede che non sei c'è il digitale adesso però in realtà cambia poco nel senso che cosa ti sfama non senti un odore non senti un sapore non hai una condivisione eppure eppure prende abbiamo perso totalmente il valore del cibo io ho nulla contro le multinazionali del farmaco del cibo con tante ci lavoriamo non ho nulla contro i fast food ogni tanto boh no questo non è vero non ci vado non è vero perché ecco vado a fare la spesa al supermercato io perché per fortuna lavoro ho tempo il sabato e magari vado proprio il sabato quindi non ho nessun pregiudizio ecco magari il fast food insomma proprio se sono all'estero mi sono trovato diverse volte in russia e devo dire che il mcdonald's mi ha aiutato perché avevo uno standard e quindi magari andavo andavo a mangiare lì quindi non ho non ho un pregiudizio ecco però ecco vedo osservo ho i dati per dire che noi sto cibo come valore di riferimento l'abbiamo perso e peraltro nel saggio che abbiamo scritto il Zuppi ha colto questo aspetto di solitudine diciamo e quando io vedo una mensa adesso l'ultima che ho visto lo dico fra Giampaolo vi vado un giro un po' per l'Italia la cucina del sorriso non so se ti è capitato di andare a Cervia una delle cose che mi ha insegnato Don Nicolini con cui abbiamo iniziato tutto un percorso andiamo indietro veramente di tanti anni e diciamo la tavola come apparecchiarla ecco io lì ho capito che insomma bisognava andare oltre al recupero del cibo diciamo all'offerta di un pasto qualcosa di più e per dire ecco lì mi hanno invitato io quando posso vado molto volentieri e ho visto una cura particolare proprio dell'ambiente del non so come chiamarlo forse riduttivo refettorio ma insomma delle tavole belle apparecchiate colorate con dei fiori cioè qualcosa che ti invitava a sederti proprio e a condividere il pasto Cucina del Sorriso si chiama ed è un'iniziativa che è stata lanciata un paio di anni fa a Cervia peraltro molto completa diciamo non c'è solo il recupero degli alimenti ecco allora ecco questo diciamo riferirsi al fast food a questa solitudine al fatto che uno mangia per sfamarsi quindi vuole pagare pochissimo il cibo non pensando che magari dietro diciamo al cibo c'è qualcuno che lo produce c'è un ambiente come dicevamo prima piuttosto che a mangiare in un certo modo poi si ha un impatto sulla salute lo dicevamo poco fa ecco sfamarsi che già qualcosa ovviamente di importante ecco allora diciamo i due nel dialogo poi ma in realtà stanno scappando hanno paura c'è qualcuno che li insegue quindi non è che abbia molto tempo per riflettere però notano ecco questa alienazione sostanzialmente che non è soltanto un fatto legato diciamo alla povertà il fatto di non avere accesso al cibo ma questa dimensione della povertà non è unica molti pensano che sia soltanto questa soglia che l'Ista ti dà la povertà assoluta non puoi soddisfare i bisogni di base che poi cosa sono il cibo vestirsi l'alloggio c'è una soglia poi la relativa non so se avete visto i dati che sono usciti ieri il 10% della popolazione ecco però una soglia mobile ed è economica fra l'altro cambia moltissimo se vivi al nord al centro al sud se hai due figli tre figli se non ne hai ecco e poi però questa platea si allarga ah che bello adesso sono un po' meno però vai a vedere i dati incrociali come abbiamo cercato di fare noi e poi hai dei passaggi di categoria cioè il povero diciamo relativo che diventa poi povero assoluto e quello che era prima un gradino così non rientrava nelle statistiche e poi è entrato in questo podio non so come definirlo che non è proprio ecco allora cercare di capire che è un fenomeno multidipensionale e può dipendere per l'appunto da altre povertà quella culturale quella relazionale quella energetica e così via ecco quindi poi attorno diciamo a questi due fast food diciamo il tema che ruota ovviamente però in un thriller insomma non è che puoi proprio non è una conferenza insomma ho cercato di portare comunque diciamo questa visione della solitudine e l'immagine che io ho visto tante volte non soltanto negli Stati Uniti e andiamo indietro al 1900 io ho stato lì dall'88 al 92 quindi pensate quanto tempo fa tutte queste cose si vedevano e mi colpivano perché venivo da un venivo da Bologna non è che proprio fosse la mia immagine abituale vedere appunto nel fast food diciamo una persona che adesso non c'era il cellulare ma all'epoca non era così diffuso o c'erano i primi cellularoni enormi ma comunque un giornale o qualcosa così e poi uno mangia ecco un po' una forma di rispetto al cibo di alienazione hai già iniziato ad alludere a questo tema della salute tema forse importante ma che forse manifesta anche una qualche patologia nevrotica intorno al cibo abbiamo diete vegetariane diete vegane senza glutine che tra l'altro mi vede come consumatore in prima fila ma abbiamo anche fenomeni di bulimia anoressia che insomma ti sei fatto una qualche idea su perché il nostro rapporto col cibo è diventato così complicato un esempio che viene fuori un po' nei dialoghi fra i ricercatori buoni e cattivi perché i cattivi poi si svelano un po' alla fine poi soprattutto si chiama Giorgio il protagonista lui non lui come vi dicevo è un pochino lesso non capisce bene ed è entusiasta quindi pensa che siano tutti i buoni che stiano lavorando per il bene dell'umanità ecco uno dei temi che ha colpito me e colpisce anche lui è la questione delle diete io non so se avete fate questo esercizio ogni tanto io lo faccio intanto io pensavo andando spesso in libreria diciamo guardo gli scaffali e a un certo punto ho visto l'inversione numerica fra libri di ricette che io pensavo andassero per la maggiore e libri sulle diete allora ho fatto un piccolo esperimento su internet ho googolato ho imparato a dirlo finalmente come fanno i ragazzi googolano e ho digitato ricette libri diete libri provate a farlo il numero si chiamano di entrate il numero di prodotti è molto più alto diciamo per le diete poi appunto digitate libri in italiano vedete i titoli ed è stupefacente intanto il numero di libri è il numero di diete c'è la dieta vegana vegetariana queste le sapete già però voi non sapete che c'è la dieta fruttariana c'è la dieta fruttariana ci si ciba solo di frutta possibilmente caduta dall'albero quindi uno si deve mettere sotto l'albero e aspettare che cada poi c'è la dieta ariana e uno pensa una dieta etnica così andava un tempo magari potrebbe andare no si vive d'aria sono delle tribù d'aria sì delle come dire delle fra l'altro adesso lo cito in qualche modo è un mio amico collega che si chiama Marino Gnola che ha fatto un libro sulle tribù alimentari bellissimo da leggere tutti questi estremi in realtà la dieta che peraltro vorrebbe dire stile di vita e uno pensa che sia mettersi a dieta mangiare di meno paradosso fra l'altro sapete che noi spendiamo più per metterci a dieta e per curarci delle malattie che derivano dall'alimentazione che per mangiare non so se lo sapevate vi do qualche fonte per poter verificare diciamo questo dato ecco alla fine viene fuori che ognuno si informa leggendo un libro se va bene il libro perché il libro vuol dire che c'è un editore c'è stato un editor un minimo di verifica perché peggio ancora sarebbe andare sui siti ma la dieta non esiste nel senso che la dieta mia la dieta tua ti do del tu la dieta sua di lei è diversa nel senso che abbiamo un'età diversa magari io e te abbiamo la stessa età non lo so il genere diverso lo stile di vita le esigenze quindi non è qualcosa che tu necessariamente prendi un libro o un sito un fai da te peraltro c'è anche la professione del dietista del nutrizionista del medico ci sono varie diciamo professioni anche lì c'è un pochino di confusione ma comunque ci sono diciamo gli specialisti che poi diciamo vi possono consigliare ecco allora lì bisogna uscire un po' da questo mondo del del fai da te dell'informazione che uno si fa prima perché è tutto disponibile e non riusciamo neanche in realtà a verificare le fonti a capire se sono fonti attendibili o meno per questo diciamo lo stimolo dovrebbe essere certamente di informarsi ma non prendere tutto per diciamo oro colato io non so se vi è capitato io l'ho comperato questo gli altri confesso che ho fatto lo screenshot piuttosto che in libreria cercando di farmi vedere ho fotografato la copertina la quarta ma non so quello di un giornalista che si chiama Panzironi tra l'altro trovo un cognome un cognomen omen non so se si può dire così se funziona in latino ma c'è questo che vivere 120 anni l'hanno non dico ingabbiato perché l'hanno condannato adesso ci sarà l'appello il contrappello non lo so mi para tre anni perché diciamo abuso della professione a lui è al gemello uguale a lui che produce pillole quindi alla fine di questo libro che probabilmente qualcuno io l'ho preso l'ho letto e l'ho fatto leggere a un collega nutrizionista ha detto non ci sono delle cose sbagliate l'avrà fatto scrivere da qualche specialista però arrivate alla fine il claim è vivi 120 anni chi non vorrebbe vivere 120 anni io vi dico mi piacerebbe arrivarci ma devo essere con la testa a posto se no penso che sia inutile e a un certo punto ti trovi anche come dire in un claim come si dice così che ti induce a pensare che e poi alla fine il vero diciamo obiettivo è venderti le pillole della società di Panzironi Brother che poi insomma ci ha messo su un business ecco in un sistema non proprio ma poi potrei farvi tanti altri tanti altri casi ecco l'esempio della dieta in una società appunto opulenta che in realtà ha il problema di dimagrire questo è il paradosso se volete diciamo ti porta a uno squilibrio sostanzialmente e l'esempio che poi vi facevo prima che è anche un altro come dire campanello d'allarme ma chi se ne frega dell'educazione alimentare dello stile di vita di diciamo dare valore al cibo mangia tutto quello che vuoi tanto a un certo punto arrivi a un certo livello se te lo puoi permettere ogni giorno ti fai un'iniezione di questo ozenpik che adesso si trova anche nel ho letto nel dark web esiste anche un web diciamo nascosto e se hai le risorse te lo procuri senza ricetta medica poi se uno legge le controindicazioni che non ci sono perché è stato diciamo viene prescritto per altro per il diabete quindi non c'è se tu lo prendi per dimagrire gli effetti che fa non entro nei dettagli lì insomma perché non sono un medico ed è giusto che di queste cose parlino gli esperti però ecco alla fine voi capite che tutti i programmi di educazione alimentare il valore del cibo non servono più perché hai appunto il il rimedio ecco questa deriva fra le altre che io faccio rientrare in questo impoverimento alimentare che anche un impoverimento culturale ecco secondo me non andrebbe sottovalutata perché alla fine poi siamo noi stessi che la paghiamo l'esempio che vi ho fatto prima calcolo dei medici sabato scorso in questo in questo dialogo insomma c'erano più medici che abbiamo fatto parlando di questo libro in realtà anche dell'altro e ci è venuto fuori che hanno fatto un calcolo il numero di obesi in Italia non mi ricordo è il 10% della popolazione che poi è il 10% anche quella in povertà fra l'altro quindi un numero che si ricorda facilmente se tutti avessero accesso attraverso il sistema sanitario di questa pillola con i costi che a monte e con i costi che quindi dovremmo sostenere noi in qualche modo con le nostre tasse ecco il sistema collassa voi capite che non è lungimirante in qualche modo così ecco bisognerebbe forse un segno di attenzione che noi proviamo ormai da tanti anni a lanciare all'istituzione alla politica cioè guardate che forse sarebbe il caso di intervenire cosa si fa per dire adesso sul tema povertà c'è la card questa social card che si chiama dedicata a te che sicuramente voi qui conoscete è il terzo anno che viene rinnovata ma era partita prima abbiamo fatto un calcolino diciamo la platea si è un po' ristretta di chi può aderire al di là che il povero in questo caso deve essere molto digitale perché bisogna andare in posta probabilmente deve avere lo speed non è una cosa proprio semplicissima abbiamo fatto un calcolo più o meno per la platea esistente per il numero di mesi e per le risorse viene fuori che hai 96 95 centesimi al giorno abbiamo provato a fare una dieta con questa e quindi hai una scaglia di parmigiano mezza ciuga insomma abbiamo composto un pasto e fra l'altro la maggior parte delle persone che diciamo che ne avrebbero bisogno non è proprio il loro consumo principale loro vorrebbero prendersi una bottiglia una lattina un cartone di tavernello e ovviamente non lo puoi prendere con quindi devi interrogarti perché uno arriva lì e ha bisogno di quel tipo di consumo ecco non è per criticare adesso questa misura che sia chiaro non ci sono risorse e così via però in ogni caso è un effetto come posso dire tampone modesto molto modesto ma non non si interroga a monte neanche come eventualmente agire prima che si arrivi a questa situazione e poiché guardando i dati è strutturale perché peggiorano ogni anno ecco forse adesso dirlo qui dove si fa già tanto cioè non è parlavamo prima fra Giampaolo cioè come arrivare agli altri ecco sostanzialmente perché qui se siete venuti qui ad ascoltare me e frequentare quest'ambiente probabilmente queste cose le sapete già anche di più avete questa sensibilità quindi magari non serve tanto qui bisognerebbe riuscire domanda aperta anche andare un po' di più fuori insomma e riuscire a condividere questi temi questi problemi anche con altre persone in modo che ne siano almeno consapevoli la ricerca che svolgono i nostri due il protagonista e l'altro l'altro collega è concentrata sul grano perché tutta questa attenzione al grano allora diciamo parlando di cibo di alimentazione di diete uno come dire delle produzioni fondamentali grano farina pane dolci grano tenero grano duro è proprio il grano e cercavo diciamo un prodotto che rappresentasse gran parte diremmo così delle diete globali e soprattutto di un'area che mi interessava quella del bacino mediterranea ma il mediterraneo questo ragazzo lui vorrebbe diciamo questo penso che si possa dire io comunque lo dico lui vorrebbe andare sul campo cioè nei paesi dove diciamo che hanno ricevuto il riconoscimento unesco per la dieta mediterranea patrimonio dell'umanità peraltro adesso cade il dodicesimo undicesimo anniversario e la domanda che lui si fa col suo tutor perché ogni dottorando ha un suo docente di riferimento si chiedono ma questi paesi cioè si mangia ancora mediterraneo si pratica questa dieta quanto si sono avvicinati o allontanati è una domanda diciamo cui lui vorrebbe dare risposta lui inizia a Cipro che peraltro è un paese diviso insomma quindi ha tutto un suo perché fra la Grecia e la Turchia come sapete e diciamo viene a contatto in qualche modo con dei ricercatori che lavorano sulla farina ecco lavorano sulla farina e cercano diciamo delle tu ridi perché l'hai letto ma insomma e cercano qualcosa che rientra diciamo nella composizione chimica della farina perché effettivamente è diciamo la base di tanti prodotti alimentari ecco poi succede qualcosa subito e sostanzialmente da lì questo viaggio che lui avrebbe già programmato lui vorrebbe andare in Grecia vorrebbe andare in Spagna vorrebbe andare in Marocco insomma rifarsi i paesi che studiò a suo tempo lo scopritore della dieta mediterranea che è questo professore di fisiologia americana forse l'avete sentito si chiama Ansel Kiss che forse era più noto per la dieta K quella che davano ai soldati durante la seconda guerra mondiale lui arrivò negli anni 50 nel Cilento per un convegno notò qualche correlazione fra l'alimentazione tipica del posto e la longevità delle persone e quindi si stabilì lì per studiarla e poi allargò lo studio in altri paesi tra l'altro visse fino a 100 anni in un posto bellissimo e così la prova vivente che questa dieta che lui ha cominciato a praticare funzionava cioè la dieta mediterranea vivere a lungo in salute non basta vivere a lungo cioè devi arrivare diremmo così in forma fra virgolette ecco allora questo diciamo il prodotto mi sembrava diciamo il migliore da un certo punto di vista e quindi tutta la scoperta scientifica che questi ricercatori fanno che ovviamente lui capisce soltanto alla fine e in realtà non la capisce lui perché non ha gli strumenti ma qualcuno riesce a scoprire ha un fine attraverso la dieta attraverso la farina diciamo molto negativo per il mondo perché insomma attraverso questa farina ingerisci anche qualcos'altro che ti porta adesso lo diciamo il titolo a una diciamo a un bombardamento calorico infatti il titolo iniziale che l'editore mi ha cassato era Caloric Bombing a me piaceva un sacco io ho combattuto con lui per tenerlo e lui mi ha detto ma secondo te uno va in libreria e legge Caloric Bombing cosa vuoi che capisca allora è venuto fuori Golbesidi però ecco non so se la copertina è molto impattante io ho lavorato con tanti editori ma lì ci si è messo qualcuno è una copertina di impatto e io vedo ho capito che i libri oltre che te li devono mettere un pochino davanti impatta molto la copertina cioè la copertina attira e questo devo dire ha fatto un all'inizio ero molto perplesso perché questo mega hamburger questo grande obeso che peraltro qui secondo me questo è veramente molto bello ha delle formule chimiche uno non capisce sembrano dei tatuaggi poi va a vedere e sono delle formule chimiche cioè ti dà già un'idea di quello che potrebbe essere diciamo lo scritto lo rappresenta in realtà molto molto bene credo che in questi giorni qui a Bologna con quanto è appena successo non possiamo non chiederci se tra ciò l'argomento di cui stiamo parlando lo spreco alimentare e il cambio climatico c'è una qualche relazione qualcosa che da mettere c'è una relazione molto forte che viene fuori in questo thriller e la posso anticipare perché forse è anche abbastanza nota lo spreco contribuisce cioè quello che si produce un terzo di ciò che si produce a livello globale si spreca un terzo adesso non vi dico il numero di miliardi di tonnellate e questo ha un impatto sul cambiamento climatico perché diciamo nel ciclo di vita di un prodotto che poi si spreca che si getta via alla fine ma che ha usato la terra l'acqua l'energia i fertilizzanti gli antiparassitari i trattori e la risparmio tutta è lunga contribuisce per il 10 12 13 per cento ai gas serra che sono quelli che determinano il cambiamento climatico o meglio detto il riscaldamento globale il global warming e peraltro diciamo la FAO ha calcolato che se lo spreco alimentare fosse un continente un paese però mi verrebbe da dire un continente sarebbe come inquinatore produttore di CO2 al terzo posto dopo la Cina e gli Stati Uniti quindi c'è un impatto molto rilevante qui dentro c'è in realtà il tema è talmente rilevante Globesity tu sei arrivato alla fine finisce ma non finisce finisce ma rimane in qualche modo aperto e c'è un sequel che io ho appena finito di scrivere e io ho proposto un titolo che l'editore non passerà non ve lo dico perché sicuramente me lo cassa però il tema è proprio questo lui si ritrova questo Giorgio così continua diciamo la parte legata a Globesity sulla farina perché non si risolve del tutto però si apre un altro capitolo sempre con dei ricercatori molto cattivi chissà forse sono gli stessi non lo so che però trovano qualcosa che potrebbe effettivamente far accelerare il riscaldamento globale oppure il suo contrario perché noi adesso siamo diciamo verso il caldo e vedete l'estremità degli eventi che succedono cioè comunque è vent'anni che gli scienziati lo dicono cioè basta guardare tutti i report dell'IPCC che sarebbe il panel intergovernativo dell'ONU che ogni anno fa un rapporto preciso sullo stato dell'arte scoperte scientifiche e ci dice praticamente la stessa cosa però la situazione sta peggiorando ecco noi guardiamo il riscaldamento globale ma potrebbe succedere anche il contrario che avrebbe poi effetti forse ancora più devastanti ecco quindi non ti do la risposta nel senso che sul cibo lo spreco la risposta è qui sul resto bisogna aspettare il sequel perché avrà interesse a leggerlo non so se abbiamo tempo per qualche domanda per chi per chi volesse qui si è parlato appunto di obesità del problema al di là del fatto di come combattolo che voglio dire chiaramente la prima cosa sarebbe l'educazione alle nostre giovani generazioni che comunque voglio dire sappiamo che l'informazione continuamente ci dice qual è il corretto stile di vita cos'è la dieta mediterranea ma la mia domanda è alla fine l'obesità è gente che mangia molto beve mangia cioè non è solo una malattia perché voglio dire i malati di obesità ce n'è qualcuno ma la maggior parte è gente che mangia molto poi mangerà anche male però diciamo esagera nel mangiare ecco perché voglio dire la dieta in fondo sarebbe semplicissima taglia a metà quello che c'è nel piatto e dimagrisci allora io questa è una domanda che diciamo ho una considerazione che viene fuori molto spesso diciamo io non essendo io sono un economista applicato quindi mi tengo un po' al mio io poi diciamo la nostra disciplina studia proprio i comportamenti quindi ti do una risposta di quel tipo lì però ecco parlando con i medici e nelle varie specialità diabetologi endocrinologi nutrizionisti e così via in realtà questa patologia basta prendere i due estremi che in qualche modo vengono citati la bulimia e l'anorissia ha anche altre origini non soltanto poi è assolutamente vero quello che dici lo vediamo diciamo che ecco uno molto sovrappeso di solito mangia mangia di più del necessario è la prima regola sarebbe diciamo dosare forse il quanto basta della cucina per dire però quando l'OMS lo classifica come patologia ne dà l'ho letto diverse origini che non è soltanto necessariamente quella alimentare però è vero quello che tu dici noi siamo in realtà bombardati quante volte avete visto la piramide alimentare della dieta mediterranea quante volte diciamo si parla di dieta mediterranea anche come dire a livello per esempio non so se avete seguito la polemica che c'è stata magari un po' specialistica però forse la pubblicità sui giornali per due tre settimane giù le mani dalla dieta mediterranea proprio dal termine mediterranea perché un'associazione agricola confagricoltura con una serie di industrie ha fondato una società diciamo che si chiama mediterranea e un'altra associazione agricola che si chiama Coldiretti con un altro gruppo di aziende ha fondato un'altra società che si chiama Filiera Italia una guerra atomica ma nel vero senso della parola cioè adesso non è uscito molto se non magari qualcuno di voi non interessato non specialista l'ha vista sui giornali ma degli interessi dietro su una parola mediterranea dieta mediterranea totalmente vuota perché tema che stiamo affrontando adesso con il nostro osservatorio sullo spreco ma vi anticipo i dati non è un segreto la dieta mediterranea è praticata dal 5% della popolazione e neanche siamo sicuri italiana quindi è una bella parola ma il 95% di noi non l'applica guardando poi è uno stile di vita quindi non è solo una piramide nutrizionale se tu non hai alla base diciamo il movimento la relazione potrai andare avanti quali sono i pilastri della dieta mediterranea puoi mangiare tutto il giorno bulgur ammesso che faccia bene non te lo so dire però è uno dei prodotti che vengono considerati equilibrati dal punto di vista dietetico e sarai sicuramente sovrappeso se non vai a fare il giro dell'isolato diverse volte perché ti devi muovere e allora la cosa sorprendente è che poi i nutrizionisti mi hanno fatto vedere esiste l'indice di aderenza alla dieta mediterranea questo nel globesity c'è perché non poteva non esserci nelle discussioni che il dottorando fa con il suo tutor e con un altro professore e a un certo punto gli dicono ma sai quant'è questo indice perché lui in realtà è un antropologo come formazione e questo dottorato che sta facendo è un mix fra antropologia e medicina sul cibo e gli dicono guarda che l'indice di aderenza alla dieta mediterranea in Italia in una scala fra 0 e 24 è 12 quindi vuol dire 5% della popolazione e anche quel 5% in realtà fa metà della dieta mediterranea quindi la cosa che io cerco di passare e sarebbe quello che poi dici tu sostanzialmente che basterebbe il buon senso perché le informazioni ci sono e allora la domanda che io mi faccio e che poi un po' viene fuori anche nel thriller e che dicevo anche prima visto che le informazioni ci sono siamo un po' bombardati e si parla c'è una narrazione continua appunto addirittura guardate due tre un mese fa questa pubblicità giù le mani dalla dieta mediterranea patrimonio dell'enogastronomia italiana tutto una cosa e poi dopo parliamone però almeno cerchiamo scuola educazione alimentare di passare questo messaggio e far sì che venga in qualche modo applicato e quindi è proprio questa cingata di trasmissione che manca le informazioni ci sono talvolta esagerate talvolta non verificate talvolta anche fake e quindi non riusciamo a distinguere il vero dal falso e allora cos'altro possiamo fare ecco io mi accontenterei del tuo suggerimento mangia la metà però non basta evidentemente perché probabilmente lo fai tu penso che tu lo faccia magari lo faccio anch'io ma la maggior parte delle persone diciamo che non hanno questa consapevolezza questa sensibilità questo buonsenso questa tradizione questa storia insomma entriamo in tanti altri campi ed elementi alla fine e poi se i dati sono quelli che vi ho detto e se stanno così peggiorando forse dobbiamo trovare un'altra chiave qualcos'altro che ci aiuti a entrare e far capire che è conveniente ecco che spendi di meno anzi vi do un dato così capite e ti do anche una risposta abbiamo fatto due tesi e l'ho ripetuta due volte perché non ci credevo neanche io io insegno dietistica economia però quindi sono a contatto con studenti anche con docenti e volevo capire se seguire la dieta mediterranea secondo la piramide in questo caso nutrizionale proprio esiste ed è valutata per ogni consumatore quindi abbiamo preso un consumatore tipo che ha bisogno di 2000 calorie al giorno che va a fare la spesa in supermercato sempre lo stesso e abbiamo fatto due carrelli della spesa un carrello che segue perfettamente la piramide il consumo domestico quindi vai a fare la spesa porti a casa e cucina e cucini e hai una dieta tre pasti al giorno e due spuntini e segui la dieta mediterranea secondo prescrizione che nessuno in realtà fa poi abbiamo preso il carrello della spesa dell'italiano medio che va a fare la spesa normalmente questo si reale e alla fine abbiamo fatto la somma del costo dei prodotti ed è venuto fuori vado a memoria ma non mi sbaglio di molto che se segui perfettamente la dieta mediterranea secondo la prescrizione del dietista l'ha fatto un dietista questo carrello della spesa hai bisogno di 2000 calorie se hai un uomo hai 40 anni adesso abbiamo preso proprio un tipo e vai a fare la spesa nello stesso posto quindi non vai dal contadino dal discount vai in un supermercato abbiamo preso un supermercato i prezzi del supermercato erano 44 euro a settimana la stessa spesa fatta un po' così tirando giù la roba dagli scaffali gli euro a settimana erano di più 47 cioè alla fine io non ci credevo ma no perché avevo il pregiudizio ma mangiare bene costa di più no in realtà devi sapere cosa scegliere io il prodotto li ho visti cioè il carrello esiste realmente e alla fine abbiamo fatto un calcolo ma allora se mangi meglio poi ha un impatto sulla salute e quindi alla fine diciamo oltre a spendere di meno avrai anche una minore spesa sanitaria e tutto il sistema se ne avvantaggia peraltro poi questa studentessa la prima la seconda non ha avuto il coraggio di farlo però per dirvi quanto valgono poco i professori universitari ha detto io voglio fare anche il carrello fast food e ha detto no quello è un consumo extra domestico tu vai al ristorante perché il fast food è un ristorante paga l'affitto ai camerieri cioè vai a mangiare fuori quindi non lo puoi fare non lo puoi comparare lei per dire quanto valiamo noi la seconda però non l'ha fatto l'ha fatto e mi ha portato i risultati e sono rimasto stupito infatti nella tesi poi l'ha messo e ha fatto bene a farlo non è paragonabile però in realtà diciamo stesso tipo di piramide quindi tre pasti due spuntini prendendo dalla lista del menu diciamo del fast food la spesa è risultata tre volte superiore era più di 150 euro e un consumo extra domestico vai fuori poi lei ha fatto il calcolo dell'impatto sulla salute eccetera ecco stare diciamo per un mese al fast food non è proprio diciamo il massimo non è paragonabile perché sono due consumi diversi ma solo per dirvi che quello che anche per me era un luogo comune e cioè un pregiudizio forse fast food uguale low cost alla fine della fiera se fai la somma si sente un grande odore di cibo adesso quindi è difficile è difficile parlare così anche per voi ascoltare probabilmente ti trovi diciamo a svontare qualcosa che tu pensi sia sia diverso ecco i numeri le indagini insomma ci aiutano anche un po' a discendere cosa serve fare cosa non serve fare grazie 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 grazie